La vedete questa? Sapete che cos'è? Questa è una luce parassita. Abbiamo parlato nel corso di scorsi video di che cosa succede quando una fonte luminosa colpisce il frontale del nostro obiettivo. Si generano questi bagliori che vengono comunemente definiti luce parassita, lens flare, ci sono tanti modi per chiamarli, light leak. Insomma abbiamo una fonte luminosa che crea un riflesso colpendo il frontale del nostro obiettivo. Lo sappiamo benissimo anche noi utilizzatori di iPhone, vediamo sempre quel puntino verde da qualche parte ogni volta che inquadriamo il sole. O ogni volta che scattiamo delle fotografie all'aperto se è per quello. Ebbene oggi vi presento una parziale soluzione, un sistema presentato da SmallRig che è in grado di limitare questo fenomeno, ma non si limita a questo perché ci fornisce anche un sistema per eliminare riflessi indesiderati sulle superfici e per variare la nostra esposizione senza dover cambiare i parametri della macchina. Andremo a vedere tutto questo nel corso di questo video che pertanto vi consiglio di seguire fino alla fine. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e di riprese video ormai da tanti anni. E quindi sono molto contento di portarvi oggi una soluzione che mi è stata proposta da SmallRig con cui andiamo a integrare il nostro kit e ci rendiamo sempre pronti ad affrontare situazioni di luce anche complicata. Prima di cominciare io consiglio a tutti quanti di iscriversi cliccando il bottone qui sotto caso mai non l'aveste ancora fatto e lasciate anche un like a questo video. Io ve lo ricordo sempre perché se non ve lo dico poi finisce che voi ve lo dimenticate. Andiamo subito a incominciare e io la prima cosa che vi faccio vedere, sapete io vado matto per le custodie, quindi vi faccio vedere prima la custodia. Qui abbiamo una custodia rigida con una finitura molto gradevole perché è bella morbida e qui dentro andiamo a riporre i vari filtri che poi andremo a montare all'interno della nostra matbox. Esatto avete capito bene, stiamo parlando di una matbox e questa è la prima matbox che io ho il piacere di possedere perché finora le avevo sempre viste utilizzare da altri ma non ne avevo mai neanche provata una per un progetto mio. Andiamo a capire un attimo di che cosa si tratta. Eccola qui. Come potete vedere è uno strumento non particolarmente grande, è uno strumento che si va ad applicare sul nostro obiettivo, quindi qui abbiamo una clamp che io adesso apro e viene via il tappo di copertura che noi adesso andiamo a riporre. Tramite questo meccanismo io posso adattare questa matbox alla maggior parte dei diametri delle mie ottiche, quindi si monta già così, non c'è bisogno di nessun adattatore supplementare. Sulla parte frontale come potete vedere noi abbiamo uno sportello che si apre e qui all'interno noi possiamo vedere attraverso perché ci sono i nostri filtri, quindi abbiamo polarizzatore END da 2 a 5 stop e voi direte ma che cosa serve questo sportello? Beh ragazzi vi ricordate la luce parassita che vi ho fatto vedere prima? Nel momento in cui utilizziamo un dispositivo come questo possiamo andare a utilizzare il nostro sportello per schermare l'obiettivo da gran parte delle luci che provengono dall'alto, in particolare la luce del sole ma può andare bene anche per delle luci di scena. Nel momento in cui noi apriamo e regoliamo il nostro sportello stiamo schermando il frontale del nostro obiettivo da tutta una serie di luci che possono andare a creare degli effetti parassita. Qui abbiamo la sua vitina per bloccarlo, quindi una volta che l'abbiamo messo in posizione lui potenzialmente non si muove più. Vado a farvi vedere come si installa su un obiettivo, qui abbiamo il 24-105 STM, può sembrare complesso perché per chi non è avvezzo può sembrare una cosa complicata, ma noi qui dobbiamo andare con le dita a chiudere questa clamp e nel momento in cui la chiudiamo andiamo a innestare il nostro obiettivo e poi rilasciandola l'obiettivo si blocca da solo in posizione. Ok, come potete vedere così è correttamente innestato, è un'operazione semplicissima, si fa in un attimo. Chiaramente questo aggiunge un po' di ingombro al nostro kit, ma adesso andrò a farvi vedere perché ne vale la pena. Ora solo una piccola annotazione, visto che mi casca l'occhio, noi possiamo adattare questa matbox a tutti gli obiettivi che hanno un diametro da 82 a 67, quindi a me è andata bene perché l'obiettivo che ho montato è da 67, se abbiamo un obiettivo da 52 con un diametro inferiore in quel caso effettivamente ci serve un adattatore ulteriore. Un'altra cosa che vi segnalo, che secondo me è molto carina, è che qui noi abbiamo la possibilità, vedete, di aprirlo e qui possiamo inserire ulteriori filtri di quelli quadrati. Quindi è un kit molto completo che ci permette di utilizzare una grande varietà di filtri per tutti i nostri scopi. Ma adesso vi faccio vedere che cosa succede nel momento in cui vado a usare il filtro che è già integrato, quindi il nostro ND con polarizzatore. Comincio a farvelo vedere da qui. Come potete vedere, se guardate la lucina alle mie spalle, vedete che già c'è un taglio di luce. Lo potete vedere molto chiaramente da qui. Così c'è una certa luminosità, così la luminosità è inferiore. Questo perché abbiamo già tolto due stop di luce. Però guardate adesso che cosa succede se io vado a girare l'apposita rotella che c'è qui sopra. Come potete vedere, taglio di cinque stop. Quindi passiamo da due stop a cinque stop. Meno cinque stop di luminosità. Giusto per farvi capire, io adesso me la metto davanti alla faccia e guardate che cosa succede. Così siamo a meno due stop, così siamo a meno cinque. Come potete vedere c'è un taglio di luce considerevole. Questo dispositivo ci mette in grado di cambiare la nostra esposizione girando questa rotella ed è molte volte la cosa migliore che possiamo fare. Questo perché? Perché esistono dei contesti in cui i parametri della nostra fotocamera devono essere per forza quelli. Vi faccio un esempio su tutti. Quello che sto facendo io in questo momento. Io in questo momento sto girando un video e ho esigenza di girare a 800 ISO. Perché sto girando in log e gli ISO base per il log sono gli 800. Quindi devo tenere ISO 800, fidatevi. Devo tenere un cinquantesimo di secondo. Perché sto girando a 24 frame al secondo e quindi lo shutter angle, una vecchia regola del video making, mi impone di girare a un cinquantesimo di secondo. E siccome voglio sfocare lo sfondo, devo girare a f1.8, che è l'apertura massima dell'ottica che sto utilizzando. Visto che i miei parametri sono fissi, che cosa succede se c'è troppa luce? Cosa che può succedere visto che siamo a ISO 800 e f1.8? Che cosa succede? Che l'immagine viene sovraesposta e quindi devo mettere dei filtri per abbassare la quantità di luce che entra in camera. Sul mio obiettivo attualmente c'è montato un filtro ND variabile, proprio come questo. Ora nel caso della mia R7 io posso variare l'esposizione senza toccare i parametri, semplicemente ruotando l'anello del mio filtro ND variabile. In questo caso ho esattamente la stessa cosa, quindi posso variare la mia esposizione, ma in più ho anche una matte box che mi scherma da tutte le possibili luci parassita e fonti di disturbo che possono esserci in giro. E l'ultima cosa che vi segnalo, anche questa molto riuscita e apprezzata, è il cap frontale magnetico. Quindi nel momento in cui noi non utilizziamo la nostra matte box, possiamo andare a chiuderla con un tappo magnetico che rimane lì, non viene più via, e possiamo chiuderla e riporla in questo modo, ovviamente avendo cura di rimettere anche il cappuccio posteriore. Bene amici, a questo punto io vi chiedo come sempre, fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate. Un dispositivo come questo lo conoscevate già, lo utilizzate già, lo utilizzate soprattutto per fare video io immagino, però spesse volte può servire anche per fare foto, soprattutto in contesti di studio dove stiamo posizionando da tante luci. Secondo me non è da disdegnare un oggetto come questo, io sono molto contento di poterlo schierare adesso nel mio arsenale. Vi lascio ovviamente i link in descrizione per tutti i riferimenti. Vi invito anche a iscrivervi perché se avete domande su questo prodotto, che ovviamente vi invito a farmi, vi risponderò probabilmente con degli shorts verticali, quindi se vi iscrivete adesso poi non andate a perderveli. Io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me, io e SmallRig vi diamo appuntamento al prossimo video. Grazie per la visione!